Hai mai sentito la frase quando non si capisce che lavoro fa, lavora in consulenza? Bene, benvenuti alla quarta edizione di Y4 Next Generation, il programma social che ti consentirà di comprendere chi è e cosa fa un professionista che lavora in Y. Io sono Eleonora e oggi qui con me ho il piacere di avere Giuseppe Coppolino, Workplace Supervisor, professionista della funzione Administrative Workplace Services, ciò che in Y un po' per acronimi definiamo AWS. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao Eleonora, grazie per l'invito e benvenuti a tutti. Grazie a te. In questa nuova puntata di Way4 Next Generation scopriremo che cosa significa lavorare per Y e non per i suoi clienti attraverso la storia di Giuseppe, un professionista che facilita anche tecnologicamente il lavoro in consulenza e a breve scopriremo come. Ma Giuseppe vuoi iniziare a raccontarci un po' di più del tuo lavoro? Sì, volentieri. In generale AWS si occupa di tutto quello che è la gestione operativa e organizzativa, di tutte quelle attività che poi permettono ai nostri consulenti di esprimersi al meglio. Quindi ad esempio insieme a noi Workplace Supervisor, Reserve e Reception si occupano delle prenotazioni di tutte le sale meeting piuttosto che dell'accoglienza per gli eventi e quant'altro. Noi in particolare come Workplace Supervisor siamo un team composto da oltre a me altre tre persone, la nostra responsabile Eugenia e i miei altri due colleghi e ci occupiamo di tutte quelle che sono le attività operative del momento, quindi del meeting vero e proprio, dall'allestimento a quelle che sono le esigenze tecnologiche per eventuali collegamenti, oltre ad avere poi la responsabilità di altre funzioni di controllo ai piani legate a situazioni di sicurezza, di base, insomma. Ottimo. Ma secondo te quali sono le skill che dovrebbe avere qualcuno che si avvicina oggi a questa professione? Beh, sicuramente un minimo di competenze digitali, ma proprio basiche, sufficiente, e una buona capacità di osservazione per tutto quello che è ovviamente anche le esigenze che noi abbiamo, la necessità di verificare e controllare e direi come prima qualità una buona, anche più che buona, sviluppata dote relazionale, in quanto in quei momenti i nostri colleghi possono magari avere anche delle sensazioni di tensione, uno stato emotivo un po' complicato per via del cliente che sta per arrivare, per via dell'importanza del meeting che stanno per iniziare, soprattutto magari quando qualcuno deve presentare, condividere slide eccetera. Quindi la nostra funzione oltre a quella, diciamo, legata alla tecnologia è anche quella a volte di proprio, un vero e proprio ascolto e supporto in un momento che per loro può essere complicato. Assolutamente. Quindi il vero tema della facilitazione un po' a 360 gradi tecnologica ma anche super interessante questa riflessione, secondo me, di quelle che sono le human skill necessarie poi per avvicinarsi a questa professione, perché una soprattutto è l'empatia a questo punto di cui ci parlavi, perché effettivamente è quella che ti permette poi di cogliere magari uno stato d'animo di chi sta per iniziare una riunione, sedersi in un tavolo con un player importante effettivamente. Ecco, questo gancio, oltre che farmi riflettere però, mi serve anche per poter raccontare la tua storia, oltre quindi alla tua esperienza come professionista nella funzione di Workplace Supervisor in UI, noi abbiamo avuto anche la possibilità di scoprirti e di conoscere, di valorizzare anche una tua carriera parallela che è strettamente legata alla mindfulness. Infatti quello di Giuseppe è diventato uno dei momenti più attesi durante l'evento di onboarding che teniamo nelle sedi di Milano, di Roma e di Bari per dare appunto il benvenuto ai New Joiners, di che ti chiederò di raccontarci sicuramente. Ma prima di arrivare all'onboarding, come hai iniziato a praticare questa passione che poi si è trasformata effettivamente in una tua professione parallela? Beh, io quando ero un ragazzo ho avuto una diagnosi di una patologia cronica, una malattia infiammatoria cronica intestinale che ha segnato la mia esistenza in maniera importante. Questo soprattutto nell'ultimo momento difficile 2007 mi ha creato le premesse affinché in qualche modo mi interrogassi se l'approccio da pugile sempre combattente fosse quello migliore possibile o se fosse meglio cercare qualcosa di diverso, come mi piace dire, sedersi ad ascoltare quello che quel momento mi stava insegnando. E da lì è nata attraverso le relazioni del tempo, prima l'approccio con il counseling, poi con il coaching che mi ha fatto diventare un coach certificato e successivamente un coach di mindfulness. Perché nel momento in cui una persona a me vicina mi ha dato la possibilità di conoscere la meditazione, la mindfulness è arrivata subito dopo come approccio laico a quello che erano questi strumenti fantastici che in qualche modo mi stavano cambiando la vita. E poi è successo che nel 2020 c'è stata la pandemia, nel 2021 sono entrato qui in EY e il primo giorno in EY ho letto un biglietto alla parete, se vuoi praticare la mindfulness scrivi ad Antonella e io ho scritto ad Antonella. Ottimo. Intanto Giuseppe, grazie per questo momento di condivisione che ci hai regalato su anche le malattie invisibili di cui effettivamente hai condiviso, di cui non è sempre facile parlare e che però mi riporta anche molto il tema dell'It's yours to build. Perché tu poi effettivamente a partire da quel biglietto, questa occasione te la sei proprio creata. L'It's yours to build effettivamente uno dei motivi molto sentiti, uno dei messaggi molto sentiti qui in EY e quindi ti chiedo cos'è che poi effettivamente ti ha portato a condividere in EY anche questo tuo altro talento fino ad arrivare ai pacchi dell'onboarding? Io e Antonella ci siamo trovati perché lei era da sola a fare le sessioni online tutti i venerdì di mindfulness dal 2016 e mi ha chiesto di aiutarla. Io vedendo che c'era questa possibilità ho colto l'occasione che lei mi ha offerto soprattutto di diventare facilitatori qui in EY attraverso un corso prima con EY UK poi con EY US e devo dire quello che ci ha accomunato e penso di poter parlare anche per Antonella di questo caso è la voglia di fornire a tutta la popolazione di Y uno strumento che sia particolarmente potente e particolarmente efficace rispetto a quelli che sono i temi di salute mentale, di equilibrio e via dicendo. Cioè anche io come libro professionista, come coach di mindfulness ho visto nel corso degli anni quanto sia bello poter vedere che strumenti che tu trasmetti ad un'altra persona diventano parte della vita quotidiana di questa persona e l'aiutano a essere non solo più efficace nel lavoro, nelle relazioni ma anche una persona più sana, più equilibrata e più serena. Quindi in questo senso il poter condividere, il poter anche trovare spazio perché naturalmente c'è stato sempre concesso di poter portare la mindfulness nelle varie sessioni anche nel corso che abbiamo deciso di far iniziare l'anno scorso a gennaio per la prima volta in Y Italia è stato erogato il corso di Mindful Leadership e la bellezza degli on-boarding, io a Milano, Antonella, Roma e Bari, è quella di vedere quanto questi new joiners, questi ragazzi giovani assorbono con grande passione, con grande curiosità quello che noi gli stiamo trasmettendo. Sono molto più attenti probabilmente della nostra generazione rispetto a queste tematiche, io lo vedo anche perché poi nelle pause mi vengono a fare domande, a chiedere altre informazioni eccetera ed è veramente un bel momento. In un palco di teatro con una platea così attenta, nel silenzio, vedere e sentire l'energia che passa è qualcosa di molto bello. Assolutamente, credo che sia di grande impatto sia poter condividere in un momento come appunto quello dell'on-boarding una sessione del tutto inaspettata credo anche per loro e poi effettivamente anche questo tema della restituzione e dei temi del effettivamente quello che è il benessere, quindi del well-being che sono cari effettivamente alle nuove generazioni però sono mai così tanto concreti appunto e argomenti di cui è sempre utile parlare e anche agire. Ma ti chiedo in conclusione, ci lasci con una pillola di mindfulness? Cioè un consiglio a chi oggi appunto inizia la propria carriera, perché tanti appunto ci ascoltano che stanno iniziando oggi la loro carriera lavorativa e magari si trova già di fronte alle piccole difficoltà e sfide lavorative che sono difficili da gestire? Allora, lascio due pillole, una teorica e un'altra pratica. Quella teorica, l'accennavo prima, le nuove generazioni, quindi dici tu, sono molto più attente probabilmente della mia a questo genere di tematiche, quindi quello a cui io voglio invitarli è di fare particolare attenzione a quello che è la loro salute mentale nel senso più dinamico del termine, cioè la mente agisce in un certo modo e se noi riusciamo a governarla e a in qualche modo essere consapevoli delle sue dinamiche diventa lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per realizzarci, per esprimere il nostro talento. La seconda, invece di carattere più pratico, è una brevissima pratica che anche Antonella offre molto spesso nelle sue sessioni online e si chiama STOP, è un acronimo che sta per STOP, quindi S, T, Take a Breath, fai un respiro, O, Observe, osserva, osserva come stai, che tipo di condizione emotiva hai in questo momento, magari semplicemente sei stanco, sei teso, hai bisogno di fare qualcosa per riprenderti e quindi P, Proceed, fai qualcosa che ti possa far stare meglio, ma anche semplicemente alzarti dal PC, fare due passi, andare ai servizi piuttosto che andare a break per un minuto e poi tornare. Questa è veramente una pillola molto semplice, molto banale, ma che se mantenuta nella quotidianità quando ci rendiamo conto che ci serve, direi che ci aiuta a tenere un certo equilibrio. Grazie, grazie Ludovic, intanto per aver condiviso la tua storia e anche per averci lasciato davvero un vero e utile take away con una pillola di Mindfulness che sicuramente ci portiamo a casa. Grazie a te Renora. Grazie a voi per averci ascoltato e vi do appuntamento alla prossima intervista di Y4NEG generazione. Grazie. Grazie a te.